L'incidente domenica pomeriggio sulla 4.60 all'altezza di Feletto, un Audi A3 proveniente da Torino è uscita di strada dopo la curva poco prima di arrivare al mobilificio Giordano Arreda. Sull'auto due giovani di Rivarolo, un 22enne che era la guida e accanto a lui una ragazza di 21 anni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e il soccorso avanzato di Castellamonte. I due giovani sono stati portati all'ospedale di Ciriè. Il ragazzo ha riportato la lussazione di un polso, mentre la ragazza ha un trauma cranico causato dalla forte botta contro il parabrezza e la frattura della caviglia. Per il recupero della vettura è intervenuto Canavese a soccorso. No, no, stai a Cirelli e tu mi venivi qua. Il 22enne. E lui! E' spoglioso. E' un carattacassi, è capito? L'hai l'esempio? Sì, l'esempio è un'esempio di questa posta. Ehi! Sì, l'esempio è un'esempio di questa posta. Sì, l'esempio è un'esempio di questa posta.